Con la campagna di nuovo in zona arancione potrebbe slittare il congresso del PD Irpino programmato per gli inizi di marzo. Al netto del possibile rinvio, lo scontro per la poltrona di segretario sarà tra l'ex candidato sindaco al comune di Avellino, Avvocato Nello Pizza, sostenuto dalle componenti che fanno riferimento a Petracca, D'Amelio, De Luca e Santaniello, e l'ingegner Gerardo Capodilupo, segretario del circolo di San Nicola Baronia, sponsorizzato dalla triade De Caro Festa Petitto. I toni continuano ad essere poco distensivi, il partito anche a questo appuntamento si presenterà spaccato. In politica uno più uno non fa mai due, la mia candidatura sta a rappresentare effettivamente il concetto stesso di militanza, di partito. Poi vinceremo, perderemo, voglio dire, non ci fasceremo la testa, ma l'unità come le dicevo non può partire dall'alto, ma parte dal basso, deve essere legittimata dai militanti. Noi abbiamo bisogno, o meglio, i miei avversari hanno bisogno sempre di una legittimazione. Prima era la benedizione, caso mai, di Ciriego De Mita, voglio dire, ora deve essere il cappello di De Luca. Invece non è così. L'unità si costruisce giorno per giorno. Serve un po' di normalità, cioè deve tornare ad essere un partito normale, quindi un partito dove ci si confronta, dove si confrontano le diverse anime, le diverse sensibilità, ma poi si trova un'unità di intenti per far sentire la voce di questa provincia anche a livello nazionale. Un partito unito è un ottimo viatico per far sentire poi la provincia forte anche a livello nazionale, quindi credo che sia fondamentale per questo. Bisogna ricostruire, ripartire dai circoli, dal territorio, insomma, rimettere insieme le tante anime che oggi appunto fanno parte del Partito Democratico e cercare di fargli capire che le iniziative individuali non sono mai un fatto positivo.